In base ai calcoli dei tecnici dell'assessorato regionale alle autonomie locali, alcune sarebbero toccate somme per 1.191.000 euro, però non arriveranno in municipio perché già la risulta tra i 22 enti esclusi dal riparto delle somme del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020. Il governo musumeci nella finanziaria dello scorso anno aveva previsto una norma specifica e gli uffici tecnici adesso hanno riservato 83 milioni di euro da destinare ai comuni dell'isola nell'ottica dell'emergenza covid per contributi a cittadini e imprese che hanno risentito della crisi e delle restrizioni. Gela però risulta esclusa in quanto non ha presentato il fabbisogno per il 2020 ed inoltre mancano gli impegni per il 2021. In totale sono 368 i comuni siciliani destinatari delle somme che la regione ha individuato nella programmazione FSC ormai chiusa, quella 2014-2020. Oltre a Gela in provincia di Caltanissetta sono stati depennati i comuni di Niscemi e Mazzarino, una conclusione piuttosto anomala visto che in più occasioni l'amministrazione comunale aveva comunicato di aver intrapreso tutte le strade necessarie per arrivare a fondi da destinare a chi ha risentito maggiormente della crisi dettata dall'emergenza sanitaria. Anche il sindaco Lucio Greco ha avviato delle verifiche per accertare le ragioni di tale esclusione. Il presidente della regione Nello Musumeci ha parlato della conclusione di una lunga ed estenuante interlocuzione con il governo centrale. I comuni secondo Musumeci potranno finalmente utilizzare le risorse che sono state destinate con un'apposita norma inserita nella legge finanziaria regionale dello scorso anno. La regione ha inoltre sottolineato l'assessore alle autonomie locali Marco Zambuto continua a essere a fianco dei comuni a maggior ragione in questo periodo che ha causato gravi difficoltà finanziarie a tutti gli enti locali. In municipio però le somme non arriveranno.